Andrea Fornaro, Ambassador Antal, senza ripercorrere un po' tutta la tua carriera, la partita dell'Optimist e adesso Influence 2, quali sono state le tappe importanti di questa carriera che ti hanno portato adesso all'oceano? Sì, allora io vengo da regate in shore, ho sempre fatto One Design, Derive e tutta la mia carriera per la fase iniziale si è sviluppata tra le boe. Poi molto casualmente e per fortuna mi sono ritrovato a fare una regata di classe mini 650, mi è piaciuto, è stata una cosa divertente, tra l'altro mi ha fatto capire che era un velista buono ma abbastanza incompleto su tanti aspetti della navigazione, degli strumenti, e ho deciso di provare, ho comprato un mini, ho fatto la mia prima mini transat con una barca serie, poi mi è piaciuto, ho costruito una barca prototipo, ho fatto la seconda mini e da lì ormai diciamo che la conoscenza di quel mondo era abbastanza avanzata, quindi ho deciso un po' di rimanerci e il normale sviluppo di questo percorso è poi classe 40. Senti, tantissime regate, quella che tu ricordi più difficile? Allora, la più difficile, diciamo quella che mi ha impegnato di più ed è stata anche più soddisfacente, è stata la Jacques Vavre dello scorso anno, è stata una regata diciamo dove abbiamo spinto veramente tanto a fondo la barca, è arrivata un po' acciaccata in fondo, ha un po' sofferto, però l'abbiamo chiusa. Non metto la Rue de Rome perché la Rue de Rome in realtà è stata molto influenzata dal fatto che mi si stava staccando la chiglia della barca, quindi più che una regata è stata diciamo una prova di carattere, però a me piace regatare, cioè non è che ho voglia dell'avventura, a me piace regatare, andare bene, andare in maniera scientifica, quindi non la metto come una regata che ricordo con piacere particolare, mentre invece la Jacques Vavre che stavamo diciamo quasi vincendo, insomma siamo stati molto vicini a fare il podio, quella è stata una cosa molto bella da ricordare. Senti, come timoniere, cioè qual è il tuo metodo nella scelta del tipo di attrezzatura per la sicurezza delle persone e anche dell'imbarcazione? Certo, allora noi sottoponiamo l'attrezzatura a uno stress massimo, quindi diciamo che la prima caratteristica è l'affidabilità, devono essere pezzi che sai che in qualunque caso, qualunque mare, qualunque vento non si rompono e terranno bene, quindi questa è la prima caratteristica. Poi una volta assicurato quella caratteristica deve essere leggero, quindi prima l'affidabilità e poi la leggerezza. Senti, una domanda che poi incuriosisce me e che faccio un pochino a tutti, cioè se un ragazzo, cioè un giovane vuole intraprendere diciamo una carriera venendo ovviamente dalla vela diciamo agonistica giovanile per arrivare poi alle grandi manifestazioni in oceano, che cosa gli diresti? Allora, premesso che diciamo a volte la vita di un uomo è anche caratterizzata da colpi di fortuna, e incroci diciamo fortuiti che poi ti cambiano un po' il futuro. È chiaro che se un ragazzo vuole diciamo entrare in questo mondo dell'oceano, a mio avviso deve prima consolidare una base tecnica solida, cioè che deve saper mandare una barca veloce e anche equilibrare una barca nella maniera corretta. Deve essere capace di avere nelle mani la conoscenza di trimmare una barca e renderla anche con vento forte, con brutto mare, renderla fluida e veloce. Una volta che hai imparato quello, diciamo la base offshore, quella più economica, più semplice, più accessibile è la classe mini adesso. Quindi fai un mini, anche vecchiotto, fai un milione di miglia, e lì ci si è a capire i fenomeni atmosferici, il meteo, insomma, tutta una serie di conoscenze che devi assolutamente ampliare. E poi devi essere una persona che piano piano nel corso del tempo fa un'evoluzione anche comunicativa per accedere agli sponsor che sono la linfa vitale di questo sport, perché, diciamoci la verità, senza Lilleri non si l'allera, quindi se non hai la base economica di questo sport non lo fai. Guarda, chiudiamo con una domanda, se ci sono progetti e eventi futuri che hai in mente. Sì, assolutamente. Allora, progetti, io faccio parte del team FlyNicca, tra l'altro saluto i ragazzi del team, stiamo preparando un record, perché questa barca va sui foil, stiamo preparando un record Monte Carlo Porto Cervo, che lo faremo a novembre. Questo, diciamo, è la roba un po' più estrema che sto preparando. Per quanto riguarda il Class 40 abbiamo due grosse regate, una è la Mad Max che parte tra una settimana, esatta, e poi c'è la Middle Sea Race, due belle regate in Mediterraneo. La barca è in uno stato di forma mai avuto prima, quindi sono molto contento. Ho fatto anche della grossa sperimentazione sulle vele insieme a North Sail, abbiamo fatto delle vele nuove, insomma, che sarà molto interessante provare. E poi, diciamo che tutto il lavoro invernale, il prossimo anno, eccetera, è volto a come, diciamo, nel mirino la Jacques Vabre del prossimo anno e poi la Rude Room dell'anno dopo. Quindi questi sono, diciamo, i due grossi goal di carriera per quanto mi riguarda. Una volta fatta la Rude Room, andiamo a planare piano piano verso qualcosa di un pochino più rilassato, perché, insomma, poi io ho fatto veramente tante miglia nella mia vita, insomma, vorrei anche godermi un po' di famiglia, un po' di wingfoil, a casa, a fiumicino, mica si può sempre andare all'altra parte del mondo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, Andrea, ti ringrazio e niente, grazie. Grazie a voi di Seili, sempre molto attenti. Salutiamo Fabio Colivicchi. Ciao Fabio, fai tante interviste a questi piccoli velisti che poi cresceranno, no? Sono bravi.